Briicchisehen vinducidio di Game Kart con questo video di bornet Valerio non si aspettava EIGH CASTICK GIG Пол METRO ASPETAMA DON DO DIABLOS E GIULIA Che magari vengono per uno squad PODE trying to do VALERilles SIUM CHE CHE VALERIL VALERIO Valerio faccia il casinista, da smettere di fare il casino dov'è che è muto Valerio? Ok fatto, no, senti che bello nessuno che parla, nessuno che rompe le balle come nessuno che parla? Ah no? Ah no? Ma i orecchie are safe allora dove andiamo Valerio? andiamo a... io sai dove vado, vado sopra reterro mi piaceva e buonanotte eh buongiorno buon salve buon appetito potrebbe essere, magari la gente guarda i video a mezzogiorno, che ne so io tu lo sai, io no no, non lo so e Valerio è un Valerio è un cabbo certo te, ragazzi c'è una live in cui Valerio si è autodinfinito ho detto sei un cabbo no, 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 vedremo quando avrà fuori i video cosa sentiranno loro vedremo, vedremo, ragazzi aspetto un mostro commentino aspetto un mostro commentino le parole che sentono male, vabbè mi dispiace, devo andare Valerio, prediction quarti con almeno 8 kill beh, non ci potrà neanche stare, non è neanche malvagio come predizione nel quarti ma poi chiudi a, per chiudi, per chiudi, per chiudi la, vino, ma Schia ma io lo atterro qua sopra Se ce la faccio tu atterro, magari in una casetta sotto se ce la fai ce la puoi fare o.. ti viene scomodo? Siamo qui Ma perché sei lì? A corso dovevo scendere Ma no, ho trovato che Eterravo sopra a corso Vabbè, vale, spero che non c'è nessuno Perché se no sei morto Dopo a corso E noi vorremmo scendere Dopo questa Bene No, non succede mai, Piero No Di tutte le case è proprio qui dovevi venire a rompere il cabo Ecco 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 Mi ho messo il cabo davanti a me Cosa mi pinghi? E la Roma ha preso il cabo Cosa mi pinghi? Sbasta pingarmi Sbasta Sbasta pingarmi Buongiorno Ecco lei sbloga, eh? Pieniziale, eh? Ma porca di qua vacca Eccolo qua Alla fine siamo riusciti a prendere il pet pack del bull burger Ah sì Sì E' come Aspetta Viene chiamato El burado Aia E' realizzato Con lingotti di manzo 24 Scarati Addio Grazie per il pesce Io me ne vado male Sappilo Ti resto un'altra volta, eh? Pronto? Ci proviamo? Sì, sì Vai Aiuto Non sparatemi Vi prego Me l'ho pure targettato In tutto ciò Cioè, va bene Ma che partita è? Dai Vai, bisogna provare a tirare giù questi qua Che stanno sparando Le schede punti Che è la nostra scheda Ok, uno ha massacredato Un altro morto Uno, come hanno ammazzato loro 22 blu Non c'è un ricorso schifoso Non va bene Eh no, non va bene per niente Non hai pusharli, vale Devi sperare che Il push mi venga Vieni con me E qua c'è Qua c'era un po' di loot Prima Lama Questo è buono Questo ci serve, vale Quindi già portati questa, vale? La faccio Dopo, vai Dopo, dopo Ok Vieni qua 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 Ok, uno Due Ok Ho apportato tutte le big Mazzo Sei tranquillo Vuoi qualcosa, vale Non mi servono Ok, vieni qua Poi niente questi Poi niente questi Poi niente questi Ok Giti davanti a noi, vale Ho bastati, bastati Qua Con la falce Atterrato uno Sì, ho visto 116 Va C'è Pai rat Va Picciu La falce Ragazzi Io non ho sempre detto La falce fa ridere La falce fa ridere Vale, ci sono un botto di mazzo Eh, adesso dovresti essere full Dovresti fullarti di tutto Guarda, c'è qualcosa di sotto Ma che sberla Ho tirato col pompa d'oro Quanto fa male il pompa d'oro E qua sotto Uno è uno qua, vale Qui c'è tra Ah, quegli altri Ma questi qua davanti a noi, vale Ma basta Vale, rezzami un po' più indietro Non venire un po' dietro Dietro Che se non mi vede Da un massacro 28 blu ancora Iniziate craccato? Mamma mia T'ho massacrato Sì, vabbè Vai, mi dà una big Orco, orco Fai niente Dammi una big Chiudi, chiudi, chiudi Continuiamo a chiudere Continuiamo a chiudere Ma basta Ma basta Vai, esci poi Spara un colpo di razzo in bocca Quelli lì Nooo Ecco Questo lo popolo Eh no Perché sono caduto giù Ma dove c'è qualcuno qui dentro Mi sa Fatto Non buco Non sei altro Non, 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 non Porca vacca Non ho fatto in tempo Prenderti 10 grappler No Dai che sfortuna Oh ma basta Da dove spagano? Ma c'è spuglio Ops Stai ancora di qua Ragazzi noi andiamo Nooo Oh yeah Ci vediamo domani Dai nel caso facciamo domani una partitina Va bene Fate i bravi Non state svegliate tutta la notte No io Tanto Bri potrebbe già chiudere fornit E aspettare la prossima sfida Dove mandare un po' di livello massimo Tutta Eh vale uguale No? Eh mica io mi che gioco per il livello Dove sbloccare tutto No Due copertini piace il gioco Va bene Fatti buoni Bye bye Ciao a te Bella Salute mi giuro Ciao Ah è tutto qua Giulia Ciao 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 Ma forgotmi dove sono gli altri Sì Ma qual è? Così stacked che la gente non vuole uscire fuori? Eh? Ah ma poi finisce i materiali eh Woohoo! Mamma mia! Mi trovo benissimo per il tipo che è esploso e partito dietro Woohoo! Beh Vittoria l'abbiamo fatta 8 kill e le ho fatte Vabbè Dettagli però ragazzi Ben commentino, ben cominciamo, mi piace come al solito Addio ragazzi per il pesce E per maledio, ciao! 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 Ciao!